Cos'è l'e-policy? L'e-policy è un documento programmatico rivolto alle scuole e autoprodotto dalle stesse, con obiettivo principale quello di descrivere l'approccio con le competenze digitali, l'uso corretto in ambito scolastico delle tecnologie e soprattutto quello che è l'utilizzo corretto delle tecnologie in generale. Ma in particolare l'e-policy è un documento che verte sulla prevenzione, rilevazione e soprattutto gestione delle problematiche rivolte a un uso purtroppo inconsapevole delle tecnologie digitali.